Come ti chiami? Luana. Luana, di dove sei? Bari. Di Bari Bari? Bari Quartiere. Vuoi fare un giochino con noi? Quando? Ti propongo due cose. Tu sei single? Sì. Vuoi cercare l'anima gemella? No. Allora, visto che non vuoi cercare l'anima gemella, facciamo il gioco del sì e del no. Va bene, dai. Lo conosci? No. Allora, io ti farò delle domande e tu devi rispondere senza dire mai né sì né no. Eh scusami, allora vale la pena che facciamo questo gioco. Come ti chiami? Luana. E sei di? Bari. Ti piace Bari? Sì. E ha perso. Saluto a una persona che non è venuta. A tutte le mie amiche praticamente. Che sono rimaste? Che sono rimaste a casa a dormire. E cosa vuoi dire a loro? Mi dispiace. Un bacio? Un bacio a tutte. Ok, ciao. Ciao. Ciao.